E prosegue il nostro viaggio nel mondo dei motori alla scoperta del gruppo Lancara. Io sono in compagnia naturalmente di Cristian Travaglio e mi trovo nella sede di Borgaretto di Beinasco dove gli affari pullulano grazie agli incentivi Rottamazione che continuano solo qui. Ve lo anticipo subito perché questa è una notizia stratosferica. E certo, hai detto veramente bene. Gli incentivi continuano eccezionalmente per questo mese. È stato un successo, vi ringrazio, ringrazio tutti i nostri clienti che questo mese sono venuti a trovarci. Veramente in tantissimi, grazie veramente di cuore e a questo proposito abbiamo pensato in via del tutto eccezionale di proseguire la Rottamazione. I prezzi più bassi del mercato esistono solo qui dall'Ancar. Seguite Cristian Travaglio e capirete perché. E partiamo con 108, vettura veramente compatta, dotata di tutti gli accessori e pensate su 108 lo sconto Rottamazione questo mese è di 2.500 euro. Quindi la vostra auto da Rottamare vale 2.500 euro e potete portarvi a casa la vostra nuova Peugeot 108 a partire da 9.500 euro. 208 è sempre un grande successo e pensate che la vostra auto che vale zero oppure la vostra auto incidentata su Peugeot 208 questo mese, solo più per questo mese, vale 3.300 euro. E Peugeot 208 può essere vostra a partire da 9.900 euro dotata di tutti gli accessori, quindi climatizzatore, touchscreen, full optional. E per essere sicuri di spendere di meno non dovete fra l'altro che venire qua da noi perché qui da noi le macchine costano di meno. E 2.800 pensate a uno sconto Rottamazione solo per questo mese di 3.000 euro. E Peugeot 2008 motorizzazione 75 cavalli, blu HDI, quindi diesel, pensate a partire da 15.900 euro. E anche su Peugeot 308 tutti i motori Euro 6, benzina e diesel, motori turbo performanti con cambio automatico anche volendo, berline station e anche in questo caso il vantaggio è veramente massimo. Pensate alla vostra auto che non vale niente, qui da noi vale 3.200 euro, vi dà la possibilità di acquistare nuova Peugeot 308, blu HDI 100 cavalli a partire da 18.900 euro. E nel nostro showroom c'è una zona dedicata esclusivamente al marchio Hyundai in quanto l'Ancar è concessionaria ufficiale Hyundai. E qui di fianco a me vedete nuova Hyundai i20, nuova da immatricolare, pensate motorizzazione 1100 turbodiesel 75 cavalli con 4.000 euro di sconto Rottamazione. Avete sentito bene, potete acquistare la vostra nuova Hyundai i20 a partire da 11.500 euro nella motorizzazione diesel e risparmiare fin da subito. E parliamo di Rottamazione anche su nuova Hyundai i10, vi ricordo che la Rottamazione sul marchio Hyundai vale solo da noi, siamo solo noi che vi offriamo la possibilità di rottamare la vostra auto e avere veramente un vantaggio concreto. Pensate nuova Hyundai i10 con 2.500 euro di sconto Rottamazione, fa sì che voi possiate acquistare la vostra nuova Hyundai i10 dotata di 5 porte, 5 posti, climatizzatore e SP a partire da 8.500 euro. Vi sfido a trovare un prezzo migliore perché sono sicuro che non lo troverete, qui da noi trovate Hyundai i10 al prezzo più basso. E come vi dicevo prima, qui da noi trovate oltre che il grande vantaggio anche tutte le novità e soprattutto trovate le macchine in pronta consegna. Quindi qui da noi trovate iX35, non ce l'ha nessuno in pronta consegna, qui da noi scegliete anche il colore e soprattutto lo potete acquistare ovviamente al prezzo più basso. Perché qui da noi trovate Hyundai iX35 con 3.300 euro di sconto Rottamazione a partire da 18.900 euro per quanto riguarda la motorizzazione diesel. Nuova Hyundai i40, nuova da immatricolare, Vagon, turbodiesel, potete scegliere due opzioni. O venite comprate i40 e vi diamo insieme una Hyundai i10 oppure avete il 35% di sconto solo questo mese e solo qui da noi. E l'ancare concessionaria lancia dal 1963, quindi qui da noi le lancia sono veramente di casa. Noi siamo gli specialisti per quanto riguarda questo marchio e qui da noi ovviamente trovate il massimo del vantaggio. Pensate, nuova Lancia Ypsilon questo mese con 2.000 euro di sconto Rottamazione può essere vostra con Super Rottamazione a partire da 8.500 euro. E qui da noi trovate le macchine in tutte le colorazioni in pronta consegna. E ovviamente la Rottamazione c'è anche sul marchio Fiat, quindi parliamo di Panda, due ruote motrici a partire da 7.800 euro con Super Rottamazione. Ma ovviamente anche, se non avete auto da Rottamare, grandi opportunità per quanto riguarda i chilometri zero. Quindi Panda 4x4, Multijet, sia versione normale sia versione cross ad un prezzo eccezionale. Venitelo a scoprire in salone. E il marchio Peugeot è leader non soltanto per quanto riguarda le vetture ma anche per i veicoli commerciali. Pensate che qui da noi potete trovare Peugeot Bipper con il 33% di sconto a partire da 9.000 euro, Peugeot Partner con il 38% di sconto a partire da 9.500 euro, Peugeot Expert 45% di sconto a partire da 11.900 euro e nuovo Peugeot Boxer anche questo con il 45% di sconto a partire da 16.400 euro. Bene, siamo in chiusura e vi ricordiamo che l'Ancar non significa solo vendita ma molto di più e non è presente solo a Borgaretto di Benasco. Certo, questa è la sede dove ci troviamo in questo momento all'uscita della tangenziale Stupinigi oppure al fondo di Corso Unione Sovietica per chi arriva dal centro di Torino ma siamo anche presenti a Carmagnola all'uscita dell'autostrada, ad Asti in Corso Alessandria numero 399 vicinissimi all'uscita dell'autostrada Asti Est e ad Alba in Corso Asti numero 24 e in Corso Bra numero 8. E vi ricordo che quando venite a trovarci siete in un concessionario ufficiale, questo vuol dire che non solo vi vendiamo la macchina e questo lo facciamo al prezzo più basso quindi alle condizioni migliori ma vi seguiamo in tutto il periodo di detenzione della vostra vettura. Quindi abbiamo in ogni sede l'officina, il magazzino ricambi, abbiamo dei tecnici specializzati quindi non è che acquistate la macchina e poi dovete andare a fare assistenza da chissà chi oppure la macchina che acquistate dovete aspettarla 15 giorni. Acquistate la macchina, tre giorni dopo se la macchina è in pronta consegna la ritirate e qui da noi, sempre qui da noi con le stesse persone che parlate per la vendita parlate anche per l'assistenza. E questo è sinonimo di grande affidabilità, ve lo ricordo, tanti servizi, grandi servizi a dei prezzi piccoli piccoli, io ti ringrazio alla prossima. Grazie mille, vi aspetto numerosi. Grazie amici per l'ascolto, vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app di Motori TV e quindi ricevere quotidianamente le nostre notizie dei migliori concessionari di fiducia. Alla prossima.